ci sono modi e modi per farlo ma io io non non ne conosco molti purtroppo in cui riuscirei effettivamente però non so anche se questo è l'unico sarà l'unico momento così del gioco è durato abbastanza da avere un impatto mentre il momento del tipo timido in color splash era tipo un la base di questo ma era molto random molto aveva comunque il suo impatto sì però si era era un'istanza e poteva passare per una battuta e basta egoismo voler conquistare il mondo e poi boh anche la risata è la miglior medicina e appunto l'unica cosa che so fare è far ridere la gente ogni tanto quindi ok e poi boh cioè se il gameplay non piace del gioco capisco ma rimane uno dei momenti migliori della serie secondo me che vado a riempirmi la bottiglia d'acqua poi vedo se è contento che l'app e non piange più torno subito un po' di più Grazie a tutti. 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 Ah, ma probabilmente me lo sto solo immaginando, vero? Abbiamo i nostri ricordi e ci devono bastare. Bobby, sei sempre nei nostri cuori. Che succede, Mario. Andiamo? Andiamo. Wow, non appare più? In una pila di più. In una pila di più. In una pila di macerie. In una pila di macerie. iscrivito. Usseri è morto forever Non lo so il gioco è ancora lungo Però sembrerebbe E' morto per salvare Olivia Cos'è sta roba? Ah sono le scarpe Il deserto è vicino quindi Subito al lavoro Ehi grazie mille Mi ero cacciato in un bel guaio Meno male che sei arrivato E meno male anche per te Oggi alla concessionaria Tod Abbiamo delle offerte che ti lasceranno a bocca aperta Ok Rifatti gli occhi con la scarpa mobile DX O Deluxe Forza chi? 150 Yoshi va fuori Fungoscatto dorato Divora le strade desertiche come fa un turista con la colazione a buffet E quando azioni il turbo Beh Meglio allacciarsi le cinture per non farsi disarcionare Come ringraziamento per Scarpo mobile destra Hai così tanta ragione Mike non ci ho pensato E' ancora meglio se è destra Come ringraziamento per avermi soccorso ti offro una prova su strada totalmente gratuita Accettando questo fischietto aderisci ai termini e alle condizioni contrattuali della concessionaria Tod E richiama auto Usalo per chiamare la tua fiammante scarpa mobile quando sei nel deserto Ti basta fischiarci dentro l'auto ti raggiungerò ovunque e ti porterà dove desideri L'importante è che resti in zone desertiche perché le sue ruote non sono adatte ad altri tipi di terreno Non serve leggere il contratto che hai tacitamente firmato con la concessionaria Tod Quindi vai E queste? Ti am calza pennello Immagino che uno come te non servono spiegazioni su come guidare veicoli del genere Ma permettemi comunque di darti qualche dritta Usa L per sterzare e se vuoi che il vento ti scompigli i baffi e attivi il turbo premendo ZR Con il turbo potrai spaccare cose e sverniciare ogni soldato origami Fai solo attenzione a non graffiare la carrozzeria d'accordo? Yehehe Ehi 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 con quello non ci puoi andare nel tunnel amico se puoi dare gas freccia sul deserto Sta musica Ah ok Ok serve un po' di spazio per accelerare No le Nelle non le avevo mai viste Le Nelle vabbè Ma in cosa mi avevano piegato? Era un cucchiaio o una pala? Dimmelo voglio sapere! Ma... Era una pala Tranquillo era una pala Please calmati Mario è arrabbiato quando gasa Quindi sarebbe questo il deserto? È così freddo e buio Non dovrebbe esserci un caldo assurdo? Il sole non dovrebbe spaccare le pietre? Di notte fa freddo nei deserti Sono contento che almeno switchono un po' Non è il solito deserto Deserto cartavetro maggiore Oh guardali con gli uccelli della zona di fuoco È inclusa qui la zona di fuoco? Wow è davvero vasto Un'enorme distesa di sabbia Sì deve trattarsi del deserto in fondo Tutto questo buio però Eclissi Dov'è il sole? Che se ne sia andato via perché si è offeso per qualcosa? Eh? Questo non va per niente bene Ci credo che è così buio qui Ma non è soltanto buio È come se in cielo ci fosse un buco nero Ah Che posto strano Un deserto con un buco nel cielo al posto del sole Ma com'è possibile? Come fa qualcuno a salire fin lassù E aprire un buco nel cielo? Magari ha un gioco di prospettiva Beh perlomeno non ci scotteremo sotto il sole coccente La nostra esplorazione sarà più facile Cerchiamo di non badare a quel buco nel cielo E pensiamo invece a seguire il nastro Beh mi spiace per chi ha la paura dei buchi Com'era? Bucofobia? No Triptofobia? Ha un nome Visita il cintro di ricerca a Viale Pranzansacco Per testare un nuovo gadget La tuta plastificatrice Ok Lo faremo Bello però quest'area aperta Ricordo la città degli Sniffit Mi aspetto e spero che ci sia un nuovo round di fiuta o sfiata Wow Come faccio ad affrontarti legit? Con il salto Mi sembra morto per un po' Non sarebbe più divertente guidare? Lasciami stare Olivia Cioè è vero che... Ah ce ne buo anche Ok Ah ok Proprio muoio ne basta Ok Va bene guidiamo Scorpione Toad Fiora di fuoco lucente La cosa del lucente potrebbero dropparla però Aveva senso per gli adesivi ma adesso Grazie mille Stai tranquillo non pungo Se non quando faccio il sarcastico perlomeno Oooo Agrabah What? Oh Oh aspetta Devono guardarmi Ok Ok E il tempo è effettivamente importante? Wow Che stanno scendo del trailer? Oh là L'ho replicata Una cosa in più a cui pensare Durante le battaglie Immagino Vediamo i marchi brucchi che fanno Sì mi piace Store Mix Oh hanno le Le cose Mettili in riga Una mossa Bop bop Fuck Non è bastato Perché ho cannato il comando Va bene Dovrei usare quello di ghiaccio Cosa ne pensi di Majora's Mask? Non mi piace perché c'è il tempo limite Ce l'ho per 3DS La prima volta che mi è scaduto il tempo in un dungeon Ho detto Fuck this Ti ho droppato tutto Scarpe vistose Siamo nella terza area Forse è ora Forse è ora di equipaggiare un po' di roba Tosta Al posto delle scarpe di Ferro Standard Mettiamo le scarpe vistose Ma no Come ma no Vabbè ho visto una playthrough di Majora's Mask Posso apprezzare la storia Un gioco Di Zelda Con enfasi Sugli NPC Piuttosto che sui dungeon E' tipo il mio sogno Ma purtroppo ci hanno messo lo stupido limite di tempo Try again next time Fuck Come è questo Due mosse Mmm 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 Non sembra difficile questo? E' uno di questi? Mmm... neanche... due mosse! Non la vedo Ah, era così, ok, ma al solito mi sono complicato la vita... Mi sa che hanno 30 giusto... Cos'è questo? Vedo che hai notato anche tu questo strano punto luminoso, ma non penso che per prendere la martellata... che prendere la martellata serve a qualcosa... Ok... Devo fare qualcosa con la scarpa... è che non posso saltare... Beh, posso sfondare forse... Quindi ho due mosse per questo? Perché devono... no, è una sola! No, devo tenerli davanti a me, quindi devo girare gli altri... Così, no? No, così, ok... Interessante! Come funzionano i B... Oh no, il mio martello di ghiaccio, nooo! Durano meno, mi sa... Di quelli normali... Forse non importa se sono davanti a me, perché alla fine li guardo sempre quando li attacco... Però boh... Ok... Ok... Quindi aveva senso venire qui... Sfondo... Toccami! Voglio combattere contro di te! 3... Yep... Per questo ci vuole... Un fiore del fuoco! Basterà? Con lo normale in quest'area? Il giusto! Quindi è così che si grinda una moneta... Beh, spero di no, onestamente... Se mai dovrò fare grinding, spero che non sia abbattere i tartossi... La strategia! Non sono immuni... Ci mancherebbe... Ah beh, sono... Cos'è? In sticker star sono immuni, vero? Uh... Tutta un'altra area... Ma... No! Ok, non si sfonda... Posso passare dal buco come ho fatto, però... Non salta l'auto, quindi... No, niente... Ok... Immagino che lo scoprirò cosa devo farci... Ehi, per chi non ama combattere... Ti ringrazio! Stavo cominciando a pensare che avrei preferito restare ripiegato! No... Aspetta! La sala del caffè è questa? Il bar? Please! Oh, yes! Un altro di questi momenti... Ehi... 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 Il bar! Ehi...